Ancora nulla di ufficiale per quanto riguarda il nome del candidato alla carica di presidente della provincia di Pescara. Nel pomeriggio di ieri un vertice tra le forze di centrodestra non ha portato a nessuna decisione finale. Al tavolo di confronto erano presenti Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale simbolo di Forza Italia nella provincia, insieme ai coordinatori provinciali Lino Galante per la Lega e Stefano Cardelli per Fratelli d'Italia. Nei prossimi giorni allargheremo il confronto all'Udc, commentano i tre. E' evidente che quando ci sono tanti ottimi sindaci, tutti i potenziali candidati, il confronto richiede un supplemento di riflessione e approfondimento. Per la poltrona del presidente uscente ed ex sindaco di Collegorino Antonio Zaffiri, ora sostituito da Maurizio Giancola, primo cittadino di Scafa, ci sono diversi nomi in ballo. Forza Italia preme per candidare il sindaco di Pene, Gilberto Petruccio, Manopello, Giorgio De Luca. La Lega, che è tornato a riunirsi in mattinata, punta su Ottavio De Martinis di Monte Silvano, ma ci sono in ballo anche le ipotesi Sandro Marinelli, primo cittadino di Pianella, Enrico Valentini di Catignano, oltre a Lorenzo Mucci, sindaco di Nocciano. Fratelli d'Italia ci prova con Matteo Perazzetti di Città Sant'Angelo o in alternativo Guido di Bartolomeo di Bolognano. Quelle per il presidente di provincia saranno elezioni di secondo livello, con i sindaci e i consiglieri dei 46 comuni della provincia chiamati al voto. Stando ai numeri, il centrodestra ha già la vittoria in tasca. Con Pescara, Montesilvano, Città Sant'Angelo, Penne, Manopello di centrodestra, la coalizione è sicura di avere più voti ponderati del centrosinistra che settimana prossima tornerà a riunirsi per ufficializzare la propria lista. Nomi non ce ne sono, commenta il coordinatore provinciale del Partito Democratico Nicola Maiale. C'è la volontà di fare una lista coalizzata tra le forze di centrosinistra e civiche, ma che vede il PD motore organizzativo. Stavolta le elezioni provinciali sono molto ambite. In paglio per il presidente c'è uno stipendio mensile pari a quello del sindaco del capoluogo, pari a oltre 4.000 euro lordi. E poi da questa tornata tornano anche gli assessori, tre, eppure per loro ci sarà un'indenità. Le liste dove c'è posto per 12 amministratori dovranno essere presentate il 27 novembre e il 28. Si vota infine il 18 dicembre dalle 8 alle 20 nel seggio unico allestito in provincia.